La lettera di licenziamento l'hanno ricevuta ieri in maniera inaspettata a fine turno i 39 lavoratori interinali dell'Asia che questa mattina hanno presidiato per protesta l'ingresso del comune di Napoli con la speranza di essere ricevuti dal sindaco. L'Asia, azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti città, ha deciso infatti di non rinnovare il contratto di questi lavoratori entrati in azienda grazie al bando per il lavoro somministrato necessario per colmare carenze di organico dovute a malattie o ferie improvvise. Io ho parlato più volte con il sindaco che è sempre stato gentile, si è sempre fermato con noi e ci ha sempre detto che per noi sarebbe stata trovata una soluzione, però poi alla fine non capiamo se c'è stato questo cortocircuito tra l'azienda e la politica viste le dimissioni dell'assessore Mancuso oppure ci sono altre motivazioni, non sappiamo nulla. Ci siamo ritrovati dalla sera la mattina con 39 colleghi ai quali non sono stati rinnovati i contratti. Mi chiamo Pasquale Guarracino, sono papà di tre figli e sono un ex percettore di reddito di cittadinanza. Sto lavorando come operatore ecologico da un anno per sostituzione e da un giorno all'altro mi hanno buttato fuori. Io non lo so se il comune può fare questo, allora faccio un appello al sindaco, al presidente della regione Campania e anche alla Meloni che dice che chi viene formato dopo è indirizzato al lavoro. Voglio vedere come fate voi a mantenere tutte le persone anche come me. E' il governo invece l'interlocutore dei lavoratori precari delle prefetture e delle questure che sempre questa mattina hanno dato vita a un'altra protesta a Napoli. Ottanta i precari campani che rientrano nei mille lavoratori italiani che dal primo gennaio hanno perso il posto di lavoro dopo che il governo non ha rinnovato le convenzioni per l'impiego dei lavoratori interinali nello svolgimento di pratiche negli uffici pubblici ministeriali. L'iniziativa unitaria è stata convocata dai sindacati di settore Nidil CGL, Felsa CISL e Wiltem Campania. Dal 2 gennaio gli sportelli unici di tutte le prefetture sono chiusi, non stanno ricevendo pubblico, non stanno lavorando pratiche, quindi è tutto fermo perché non c'è personale. Quindi ad oggi ci troviamo a casa con una disparità di trattamento non giustificato rispetto alla situazione di altri interinali che ad oggi hanno avuto un minimo di riconoscimento di qualche garanzia.